Il corso di laurea in medicina a Taranto è salvo, così ha sentenziato il MIUR nell'incontro tenutosi ieri a Roma. Siamo con l'assessore regionale allo sviluppo economico Mino Borracino, un risultato certamente importante, importantissimo, l'Usinghiero. Come sono andate ieri le cose? Innanzitutto è stato premiato il gioco di squadra perché insieme con il sindaco di Taranto e con il sottosegretario della presidenza del Consiglio dei Ministri, il senatore Mario Turco, abbiamo tenuto questa posizione. Abbiamo detto chiaramente che da quel tavolo noi non ci alzavamo se non fosse stato ristabilito il corso di laurea a Taranto. È stata una riunione abbastanza lunga, però alla fine il risultato importante è quello che dalla prossima settimana riprenderanno le elezioni a Taranto. È stata rigettata al mittente la voglia di ghettizzare una città, l'inappropriatezza della sede, l'inappropriatezza di una città ad ospitare un corso di laurea. Diciamo che con forza abbiamo chiesto il rispetto del bando. Il bando è molto chiaro, parla di 300 corsiste all'Università di Bari, 240 nella sede principale e 60 nella sede didattica di Taranto. Questo sarà fatto, il bando sarà rispettato, la sede didattica era stata già autorizzata, quindi non c'è nessun problema di accredito perché il problema di accreditamento della sede c'è per un nuovo corso. Questo non è un nuovo corso, è la sede didattica del corso di Bari. Questo ovviamente rafforza le potenzialità dell'Università a Taranto dalla possibilità anche di ospitare studenti di altre province. Così come gli studenti tarantini per decenni sono andati a Bari, adesso è giusto che anche studenti da altre province, soprattutto da Bari, si iscrivano, vengano a frequentare a Taranto. Come regione metteremo a disposizione strumenti, giustamente immagino quello che mi stavi per chiedere, metteremo a disposizione attraverso la Disu servizi, per quanto riguarda l'Agenzia del diritto allo studio universitario, al servizio degli studenti. Ci sarà un ulteriore impegno anche dall'amministrazione comunale per quanto riguarda gli spostamenti e tutto quello che serve per rendere più tranquilla la presenza a Taranto di una quarantina di studenti fuori sede. Però rispediamo al mittente, lo abbiamo fatto anche ieri, la voglia di queste persone che chiedono di non poter frequentare a Taranto. Questa è un'idea assolutamente strana, bizzarra, un'idea un po' dispotica che presume che a Bari ci sia tutto e a Taranto ci possano essere soltanto gli studenti tarantini. Il bando era chiaro, chi arrivava sceglieva e poi se ci sono gli ultimi 60 che avranno la possibilità di frequentare a Taranto, dovranno frequentare a Taranto. Proprio a questo proposito è importante sottolineare questo aspetto perché poi magari si potrebbero ingenerare delle lagnanze, delle lamentele, ma perché noi di Bari dobbiamo venire a Taranto? Innanzitutto c'è da dire che la Puglia è unica e poi a questo punto c'è uno scambio di attività, di servizi tra una provincia e l'altra. E poi come detto poc'anzi, anche io da studente universitario ho frequentato Bari, non vedo quale sia il problema da Bari venire a Taranto. Si tratta di 100 chilometri, non stiamo parlando di chissà quali mete esotiche. Soprattutto mi permetto di dire che chi si è iscritto ha risposto ad un bando e il bando era molto chiaro, il bando parlava che ci sarebbe stata la possibilità di scelto. Chi si è candidato a partecipare per l'iscrizione con i testi accesso all'Università di Bari sapeva molto bene, il bando è molto chiaro e quindi si dovrà rispettare il bando. Mi dispiace per gli studenti baresi, ma insomma queste proteste per certi versi anche patetici e mi prendo la responsabilità di quello che sto per dire, dei genitori di questi studenti sono assolutamente fuori luogo. Si sapeva, il bando è molto chiaro, le regole erano scritte e non si può cambiare un bando in corso d'opera. Io, Assessore, sa che in genere non sono dolce con gli enti, però devo dire che per questa vicenda dei corsi di laurea in medicina la regione è stata davvero vicina a Taranto. Si possono esprimere varie opinioni diverse sul rapporto regione-Taranto, però in questo caso la regione ha davvero difeso l'identità di Taranto. Parlo in questo momento alla pancia di tanti leoni da tastiera che nella settimana scorsa hanno attaccato dicendo che il Presidente della regione di Bari non interveniva perché difendeva gli studenti baresi. Devo dire che su mia sollecitazione in primis in quanto rappresentante del territorio nella giunta regionale, ma poi anche e soprattutto il Presidente, immediatamente hanno preso il cosiddetto toro per le corna. Sabato scorso abbiamo convocato, sabato pomeriggio, una riunione in presidenza in cui sono state dette queste cose ed immediatamente il Presidente Emiliano ha chiesto un incontro al Ministro Fioramonti che è stato molto disponibile. Devo dire che c'è stata anche un'attenzione, caro Luigi, da parte del governo nazionale, del Ministro Fioramonti in particolare e su questo devo dire che il risultato di ieri, lo dicevo all'inizio, è proprio il risultato di un gioco di squadra.